la sola via di uscita da questo mondo perfetto dunque, da questo mondo logico dell'organum pensato chissà forse da qualche nuovo filosofo messosi al comando dell'umanità, un nuovo illuminato, e Dio non voglia mai che un filosofo salga mai al potere, creerebbe soltanto disastri e dunque l'isteria, la tristezza, la spersonalizzazione, l'annullamento stesso dell'io e del principio di non contraddizione, o in alternativa, come spesso accade, la religione, che in Cacciatore d'Androidi è praticata anch'essa mediante l'ausilio di strani aggeggi tecnologici e detti scatole dell'empatia, il solo modo di non essere soli, si dice nel romanzo, moderne pipe per l'opio direi io, qui l'accostamento oppio religione, nella fattispecie ioni negativi prodotti da tale macchine provocanti queste estasi mistiche, e il mercerismo, il culto praticato da questi uomini del futuro è quanto mai azzeccato, e perdersi quindi nei flutti di mistiche aspirazioni collettivistiche, a metà tra un certo paganesimo popolare e banalità orientalistiche precotte alla Sai Baba o alla Osho, tanto per intenderci, i quattro salti in padella della religione insomma, in alternativa allo solitudine dell'altro collettivismo, quello laico, quello politico, quello pianificato. E' in questo clima di egelismo latente, ma già trionfante, che è ambientato il romanzo di Dick, e in una certa misura anche il Blade Runner di Ridley Scott. Ho detto in una certa misura perché Scott e gli sceneggiatori danno come l'impressione di aver voluto ridimensionare lo scenario catastrofico descritto da cacciatori di androidi, a cominciare dallo stesso personaggio di Deckard, il quale nel film non appare quel becero conformista del romanzo, il cui unico pensiero sembra essere guadagnare più soldi, uccidendo più replicanti naturalmente, per potersi così permettere una pecora in carne ed ossa, visto che quella artificiale che già possiede sembra non dargli l'affetto che lui vi sospetta da un animale domestico. Scott infatti ha in mente qualcosa di molto meno drammatico rispetto a Dick. I personaggi del film vivono sofferenze più silenziose, fatte di smorfie impercettibili, di lacrime che tremano sulle ciglia senza cadere, di sospiri contenuti, strozzati, l'esatto opposto dell'angoscia espressionista cui pensa Dick. Non è un caso che abbia detto espressionista, in quanto una delle scene più belle del romanzo si svolge proprio all'interno di una mostra dedicata a Munch, in cui i sentimenti dei personaggi si riflettono nelle opere dell'artista norvegese e viceversa, come in un gioco di specchi, molto suggestivo. La stessa crisi esistenziale del Deckard di Blade Runner, molto più sottile, inconfessato, rispetto a quella del suo alter ego letterario. Scott del resto vive una realtà culturale completamente diversa rispetto a quella di Dick. Egli sembra soprattutto essere molto meno disposto a dessicondare le teorie complottistiche che in Dick appaiono una vera e propria ossessione, non solo per quanto riguarda cacciatori di androidi, ma l'intera sua opera. Tant'è che qualcuno ha ironizzato persino sul fatto che egli dubitasse addirittura dell'autenticità dell'erba del suo giardino. Scott vive negli anni Ottanta, un periodo in cui gli status symbol non esistono quasi più, e anche gli spauracchi della guerra atomica stanno lentamente affievolendosi. Per non parlare dell'inversione di tendenza della stessa fantascienza rispetto al pessimismo nei confronti del futuro. Si pensa ad esempio al serial televisivo Star Trek, nel quale si dice espressamente che nel XX secolo gli umani erano riusciti ad evitare il conflitto atomico. Ed è il fatto che la maggior parte delle profezie catastrofistiche di Dick non solo non si sono avverrate, ma neppure appaiono come ipotizzabili all'orizzonte. Lo abbiamo accennato prima, il romanzo è ambientato nel 1992, un periodo molto ridosso rispetto a quello in cui è stato realizzato il film. Tant'è che per l'imbarazzo Scott, vista l'estrema vicinanza di quella data rispetto all'82, perché lo scenario futuristico fosse più credibile, ha dovuto spostare l'ambientazione della vicenda al 2019. Scott e Dick appartengono dunque a due mondi diversi, per certi aspetti opposti. Ci troviamo quindi di fronte ad un problema di metodo, di interpretazione, al delicato rapporto tra testo e rappresentazione, partitura ed esecuzione, rigore storico-filologico direi e libera ispirazione, problemi molto dibattuti, molto attuali, non solo per quanto riguarda il cinema. La bravura di Ridley Scott, a mio modo di vedere, consiste proprio nell'essere riuscito a conciliare questa opposizione, senza rinunciare né al contenuto del libro né alla propria libertà espressiva di regista. Pur omettendo molti elementi, spesso portanti per quanto riguarda l'architettura del romanzo, ma a mio modo di vedere anacronistici o fuorvianti rispetto al periodo in cui il film è uscito, Scott ha creato un'opera capace di dare ulteriore respiro al soggetto da cui è stata tratta. Le partiture sono importanti, e questo sia chiaro, ma lo è ancora di più il linguaggio con cui si vuole esprimere, lo è ancora di più l'interpretazione, il saper far vibrare la sostanza della composizione attraverso quella che io amo definire la cassa di risonanza dell'interprete, il quale, al contrario del testo, è sempre diverso, così come sempre diverso è il pubblico che assiste. Il rischio di voler seguire pari pari gli avvenimenti descritti in un libro, ma questo vale anche per una pagina musicale o il copione di un'opera teatrale, di raccontare tutto, e di dare vita ad una esecuzione rigida, ingessata, in particolare quando questo tutto cozza con la realtà del presente, o peggio appesantisce il ritmo narrativo, o penalizza la visione d'insieme, con il rischio di far perdere l'anima stessa dell'opera che ci si è proposti di mettere in scena. Arrindondare di colori vivaci, di conflitti emotivi violenti, urlati, Scott preferisce un'altra via, non meno sconvolgente seppur più nascosta, direi addirittura segreta. C'è un brano della Bibbia che a mio avviso descrive molto bene l'argomento di cui stiamo parlando, è tratto dal primo libro dei Re. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Ho tradotto più letteralmente una voce di sottile silenzio. È nel silenzio infatti che Elia, il profeta a cui si fa riferimento in questo celebre passo, trova Dio. Perché il silenzio vale più di mille parole. Il silenzio è musica. La pausa è musica. Analogamente il bravo regista, e Scott sicuramente è un bravo regista, preferisce a volte non dire piuttosto che dire. Preferisce omettere piuttosto che aggiungere. Io credo, ma penso questo possa essere condiviso anche dai sostenitori più intransigenti di Dick, che nonostante le libertà che il regista si è prese, o forse proprio grazie a queste libertà, il film si è riuscito a conservare tutta l'atmosfera del libro. Già la recca si respira in apertura, nella fotografia a cupa, negli edifici decadenti, nella pioggia incessante, unitamente alla colonna sonora di Vangelis, in certi punti veramente avvolgente. Ben rispecchi il clima descritto nel testo originale, senza la necessità di ricorrere a troppi dettagli e inutili appesentimenti. Grazie a tutti! Grazie!